Ciao a tutti, come promesso ecco la terza riflessione ad alta voce. Nei giorni scorsi ho letto con attenzione la descrizione che avete dato di voi e per alcuni ho visto che si parlava di lotta, si parlava di essere guerrieri, si parlava di conquistare quello che vogliamo. Non entro in merito, cioè non sto a giudicare se è giusto o sbagliato quello che avete scritto ma vi voglio far riflettere su un particolare, sull'utilità dell'atteggiamento perché la verità non è quello che è giusto o che è sbagliato ma la verità è quello che ci è più utile per raggiungere la felicità e la libertà interiore che poi ci permette di raggiungere la felicità e la libertà esteriore. Buddha diceva che la verità sta nella via di mezzo se tu prendi una chitarra e hai le corde tese non riuscirai a suonare se tu hai una chitarra e hai le corde molle e non riuscirai a suonare riesci a suonare, crea una musica armonica quando le corde sono tese nel modo giusto quindi quando le corde sono accordate. Allo stesso modo la nostra vita può essere fatta di lotta, può essere fatta di rassegnazione può essere fatta di accettazione. Se lottiamo, questo non significa che non riusciamo a ottenere dei risultati ma li otteniamo con un grande dispendio di energie e ovviamente con una grande fatica e con una grande magari sofferenza. Se invece pensiamo che le situazioni siano irreversibili ovviamente non andremo più ad agire perché la rassegnazione è proprio rassegnare le azioni. Invece la via di mezzo è proprio accettare la situazione per quella che è non pretendere che cambi da sola non pretendere che le persone vicino a noi cambino il loro atteggiamento ma capire che cosa la situazione stessa ci sta insegnando e andare a trasformare il pensiero andare a trasformare le nostre emozioni che sono una conseguenza del pensiero e di conseguenza andare ad agire in direzioni di quello che desideriamo. La vita del resto è tripolare sono dei momenti positivi, dei momenti negativi, dei momenti neutri quindi nella nostra vita possiamo avere momenti di lotta dei momenti dove ci rassegniamo e dei momenti dove invece accettiamo quello che è adottiamo punti di vista differenti e andiamo a cercare le opportunità che magari si celano davanti a delle situazioni che ci sembrano magari impossibili o difficili da risolvere e questo ovviamente ci porterà ad accettare noi stessi accettare la nostra natura accettare il mondo circostante non cercare di aspettare che cambi da solo ma intanto cambiare il nostro atteggiamento e quindi lavorare proprio sull'agire sulla nostra libertà sulla nostra felicità interiore e di conseguenza andare a trasformare le situazioni quindi il consiglio è davanti a una situazione percepite al meglio tutto quello che la situazione vi sta insegnando percepite quali sono le opportunità che si possono celare dentro ad ogni situazione e poi agite per ottenere quello che desiderate detto questo vi invito oggi ad osservare la vostra realtà a comprendere, a cercare di capire qual è l'atteggiamento più utile per farvi stare bene e di conseguenza metterlo in campo per ottenere ciò che desiderate buona giornata a tutti e mi raccomando ricordatevi che l'accettazione è la via per il benessere per la libertà e per la felicità interiore ciao a tutti ci vediamo alla prossima riflessione ad alta voce ciao